Il Signore disse a Mosè, vedi, ho chiamato per nome Besalel, figlio di Uri, figlio di Kur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello spirito di Dio, di sapienza, intelligenza, scienza per ogni opera, per far progetti ed eseguirli in oro, argento e bronzo, per scolpire la pietra da incastonare, intagliare il legno e fare ogni opera. Ecco, io gli ho dato Oliab, figlio di Akisamak, della tribù di Dan. Nel cuore di ogni abile artigiano ho dato la sapienza e faranno tutto ciò che ti ho ordinato. La tenda del convegno, l'arca della testimonianza e il propiziatorio che vi è sopra, tutti gli oggetti della tenda, la tavola e i suoi oggetti, il candelabro d'oro puro e tutti i suoi oggetti, l'altare dell'incenso, l'altare dell'olocausto e tutti i suoi oggetti, la vasca e il suo supporto, le vesti da cerimonia e le vesti sante per i sacerdote Aronne e le vesti dei suoi figli per il sacerdozio, l'olio d'unzione e l'incenso aromatico per il santuario. Faranno secondo tutto quello che ti ho ordinato. Il Signore disse a Mosè, riferisci ai figli di Israele, dovrete osservare i miei sabati perché è un segno tra me e voi per le vostre generazioni, perché sappiate che sono io, il Signore, a santificarvi. Osserverete il sabato perché è santo per voi. Chi lo profanerà sarà messo a morte, perché chiunque vi farà un lavoro sarà eliminato dal mezzo del suo popolo. Per sei giorni lavorerete e il settimo giorno è riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque farà un lavoro nel settimo giorno sarà messo a morte. I figli di Israele osserveranno il sabato, praticando il sabato nelle loro generazioni. Alleanza perenne. Tra me e i figli di Israele è un segno perenne, perché in sei giorni il Signore fece il cielo e la terra e nel settimo giorno cessò e respirò. Quando ebbe finito di parlare con lui sul monte Sinai, diede a Mosè due tavole della testimonianza, tavole in pietra, scritte con il dito di Dio.